Allora amici, il bebop. Consideriamo il bebop come la rivoluzione musicale degli anni a cavallo tra il 40 e il 50, metà degli anni 40 in poi. Gli artisti che hanno, come dire, hanno detto basta. Allora il jazz fino a questo momento è stato musica di intrattenimento, da adesso non lo è più. Adesso il jazz, se uno vuole ascoltare qualcosa, deve stare lì concentrato, seduto e capire che stiamo facendo delle cose stranissime. Charlie Parker, Dizzy Villespie, Thelonious Monk, Bud Powell, per il nostro strumento Kenny Clark, Max Roach, Art Taylor, Jimmy Cobb, Philly Joe Jones, Art Blackie. Ne dimentico qualcuno, vado a braccio, però insomma poi è molto facile oggi guardare un minimo di storia della batteria per collocare i capiscuola di uno stile piuttosto che l'altro. Diciamo che tornando indietro alla batteria swing, di tutti i grandi artisti nominati nella puntata specifica, quello che più di altri ha fatto da tramite, da ponte, tra la batteria swing e la batteria bebop, è stato Papa Joe Jones, che aveva già in embrione nel suo drumming delle cose che erano più moderne rispetto all'epoca e allo stile per cui era conosciuto. Arrivò Kenny Clark e per primo cominciò a creare un interplay ritmico tra rullante e cassa più fitto rispetto allo swing. Teniamo presente che nel mondo della batteria tradizionale, dal New Orleans al Dixon e allo swing, sostanzialmente la cassa dava la pulsazione sui quarti e si ballava su quello. Dal momento che nel bebop il jazz non si ballava più, cominciavano a esserci oltre che delle armonie più complesse, relativamente più complesse, perché poi in realtà se ascoltiamo i dischi degli anni venti di Fletcher Anderson, era sì musica di intrattenimento, jazz di intrattenimento, ma c'erano già delle composizioni, delle armonie, degli arrangiamenti pazzeschi. Però diciamo relativamente più complesse dal punto di vista armonico che si alimentavano con le complessità ritmiche, gli accenti del pianista, le evoluzioni dei solisti. Charlie Parker e Gil Lespy sono l'emblema di una rivoluzione musicale enorme, già in atto da grandi predecessori, come per esempio Coleman Hawkins, che è stato un sossofonista d'epoca swing, però faceva delle robe pazzesche dal punto di vista ritmico e dal punto di vista della concatenazione armonica. Quindi è chiaro che i rivoluzionatori sono stati coloro che hanno dettato le nuove leggi musicali, ma loro stessi hanno preso spunto da qualcuno che c'era prima, a essere pignoli, Tony Williams o Jack Dejeunette non esisterebbero se non fosse partito tutto da Baby Dots. Per cui è chiaro che l'evoluzione è sempre uno stratificarsi di idee e di sperimentazioni di artisti che sono arrivati prima. Tornando al Bebop, allora dicevo che Kenny Clark è stato il primo a interagire tra rullante e cassa e gli accenti degli altri strumenti, soprattutto gli accenti del pianoforte. La batteria si libera dai vincoli della cassa in quattro, che peraltro rimane. Ci sono dei momenti in cui la cassa in quattro, io stesso, che oggi suono in gruppi che non hanno niente a che vedere con lo swing, però danno una sostanza, un corpo sonoro collegando il walking del contrabbasso alla pulsazione della cassa in quattro. Ecco, la cassa in quattro e tutto quello che concerne l'aver assimilato la tradizione jazzistica mi facilita il compito di utilizzare di ingredienti o di escluderne altri anche in ambiti più moderni. E questa è la magia della batteria jazz tradizionale, perché hai a disposizione tutto quello che è servito per poi, grazie a degli artisti specifici, a far evolvere il modo di suonare la batteria nel jazz. Vi faccio un esempio di quello che era già in atto nello swing e che nel bebop prende una corporatura ancora più ampia, ovvero il ride che accompagna, l'i-hat che segna il levare e la cassa e il rullante che giocano tra loro. Ok. 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 Questo è il linguaggio batteristico che al di là dell'etichetta bebop suoniamo tutti quanti oggi se suoniamo jazz, al di là degli arrangiamenti specifici. Dunque, beh direi che... Ah beh certo, la parte solistica. Adesso vi eseguirò un solo. Anche sui soli abbiamo una libertà creativa ottimale, perché a differenza di un solo New Orleans o Dixieland o Swing parliamoci chiaro, se qui facciamo una frase riuscita male la confezioniamo di momento creativo e abbiamo risolto. Se suoniamo Swing e facciamo una roba brutta si sente subito. Bene, allora adesso vi faccio un solo. Naturalmente il solo che vi eseguirò assolutamente non preparato quello che viene e viene, è comunque il riassunto di tutti quei processi tecnici e meccanici che dobbiamo studiare dettagliatamente sullo strumento. Settoy cmd di genere Maggiama La Bocca Grazie a tutti. Grazie a tutti.